Si è concluso domenica a Forchia il convegno dei testimoni di Geova dal tema Non smettiamo di fare ciò che è eccellente. Migliaia sono stati partecipanti che hanno seguito il programma con la propria copia personale della Bibbia. Tra questi molti giovani, famiglie intere e diverse persone anziane. Gli argomenti trattati, tra cui come usare esaggiamente i social network, come divertirsi in maniera sana e come investire per avere un futuro sicuro, sono stati analizzati confrontando la realtà attuale con il valore pratico dei consigli biblici scritti mille anni fa. Alcune interviste hanno evidenziato come i problemi difficili della vita, come una malattia inguaribile, possono essere affrontati con maggiore serenità e forza, avendo fiducia che Dio in qualsiasi situazione ci offre il suo aiuto. Sette sono stati nuovi che hanno simboleggiato la loro dedicazione a Dio con il battesimo per immersione completa in acqua e che con un solenne sì hanno manifestato la piena convinzione di fare la volontà di Dio in ogni fase della loro vita. Tutti i presenti hanno potuto apprezzare la veracità del proverbio biblico, si raccoglie ciò che si semina, e sono stati motivati a dare spazio e fare il bene nella propria vita, interessandosi delle persone più anziane, proteggendo i giovani da influenze malsane e parlando del messaggio di salvezza menzionato nella Bibbia in modo da avere una vita più felice e gratificante. Allora godetevi, questa assemblea rafforzerà la nostra determinazione di non smettere a compiere ciò che accendete.